ciao amici amiche mitici proviamo un gioco che era su playstation plus premium grave yard keeper è un bel indie fatto diciamo dai bene nel senso che vedrete anche dal video che è carino bisogna capirlo un po ragazzi perché si fa un po di fatica a capire però andiamo gravi yard keeper mitici marco drams games porta un sacco di contenuti di tutti i generi ok ragazzi quindi perfetto 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 grazie 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 a tutti. 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 Sento che dovremmo portare all'obitorio. Non ricordo esattamente perché. Ok. Ok, allora. Ok. Ah, proprio... Mi spiace questo posto. Metti il corpo sul tavolo. Ma davvero? Progetto numero di riparazione. Pallet e straicarne. Stai carne. Dai, sei serio? Hamburger! Sì, effettivamente di tutti si abituerai. Quindi cosa dobbiamo fare? Non lo so, se prendiamo. Beh, scusa, non si può bruciare. Non lo so, se prendiamo. E se prendiamo la mente. Allora... E se prendiamo... Seppegliamo Ah, tavolo di progetti Sito Letto di fiori Ok Dobbiamo sempre fare triangolo così Ah, ok, ben fatto Certificato di sepoltura Ah Quindi questo certificato dovrebbe sapere Mi stanco perché devo venire qui ogni mattina, oh poverino Come non ho la figliola Ma tanto c'era un nuovo custode L'abbiamo aspettato per 30 anni Dai, dai certificato, ciccio Mi spiatti dentro ma il tuo cimitero è un disastro Sì, vai tranquillo Vuoi muoverti e ha il disastro Fino quando non l'avrei sistemato Ah, ok Ok Ok, prima di un leader Sembri un leader adesso Ho mangiato qualcosa Aspetta, cosa dovrei dire? Perché sei venuto qui? Sì Fa parte il mio dovere Tradizioni e rituali Sinto per la presentata La sua gloria Certificato di sepoltura Non appena un corpo di sepoltura Scambiare il certificato per denaro Alla taverna del villaggio Ah Come posso? Oggi sta a letto ma non ci vorrà nemmeno un'ora Ma è il tuo lavoro Ok Ok Creare nuovi oggetti Lavorazione del legno Ok, figo Wow Tanta roba eh Ok, allora Certificato di sepoltura Beh beh Potrei Costarne uno Ok Passiamo che ne porto uno Ok Perfetto Vediamo qua che cosa si può costruire Letto di fiori Ah Solo questo si può costruire qua eh Ripariamo Ecco Recinto Ripariamolo Oh Quindi Scambi 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 Andiamo Ah beh Quello l'ho riparato ora Tanta roba eh Staccano tutti gli algoli Staccano tutti gli algoli Staccano tutti gli algoli Staccano tutti gli algoli Non è proprio posto il legno Beh lo posso ero legno Perfetto Sì va tecnologia questa invece questa me lo fa questa me lo fa questa potete farlo subito ok ragazzi questo lo possiamo far subito abbediamo un po' cinchero per fare una pietra devo andare la che dice un po' la volta le cose da fare ok per ordinare che non ho acquisito questo percorso è chiuso colina stragata sono comunque dei bei giochini queste indie a me piacciono sono dei bei passatempo sono proprio al piccone ho parlato con lei dove sono le buone maniere sono la signora che mi piace di conoscere faresti meglio parlare con mio marito ciao Orazio benvenuto sono Orazio come ci vuoi andare nel nostro piccolo villaggio quando prenderai di inaugurare la chiesa la chiesa quello prima di sistemare ci metterò certo certo passa un po' di tempo qua quando se ne occupa qui mettiamo al lavoro come posso aiutarti certificato vai sì ok sta carne sono fisica acquistare un po' mi ha acquistato un po' di carne fresca o meno sapere che ho preso la cara non ho autorizzato avvicinati che serpente penso che tu abbia il marchio reale si è la fiamma si è la fiamma vai ciao mitico sono giochi tranquilli ragazzi che si fa ah si ha preso abbastanza non si può andare l'opera alimentaria no c'era un coltivo mi ha detto di andare da qualche parte mi ha detto da qualche parte che non ricordo come faccio a fare quei punti lì tipo umana bisogna mangiare magari mi ha detto andare da qualche parte che non l'ho assolutamente ascoltato quindi adesso mi ha dato una nuova missione però io non so assolutamente che cosa devo fare hai visto ciao sono custode quante giorni nello stesso bottrame piccoletto nuova attività ok vale la pena parlare avere un momento cosa è che lo signa la fiamma oh di andare via il giorno è già la mia e poi vieni quindi schiva sono catastrofico secco di carta e inchiostro me la puoi procurare e tutti questi vieni dove trovare carta in chiamato vecchio astrologo si trova al faro è un pazzo è una città della città riesco a credere ok quindi ci sono le missioni ma come le attivo non l'ho ancora capito il faro dove fattoria e ragazzi non fa non c'è e tutte le scene che si sbloccano dopo non c'è un abbastanza e come li faccio i punti mi spiega proprio come fare i punti maniano questo è un murino un murino rosso scusate macinare qualcosa non usa da macinare ok come siamo ora le spighe lui è vabbè e io ho preso un sacco di roba all'inizio che poi alla fine adesso non riesco a fare nulla perché mi dice che non ho i cosi blu ma i cosi blu come li faccio io sarebbe tipo il mano la forza ah aspetta vabbè poi sei stato a villaggio stai rubando i miei pensieri ahahah non vuol che tecnologia è tenuto raduna raduno macca e raduno mela oh tre impasto tre al pane sembra una testa magica ma sta roba qui che non ho capito un bel giardino mi servirebbe baule cavalletto il cavalletto cosa fai col cavalletto? ah è la mia proprietà non ho abbastanza quella roba lì che non ho capito che cos'è raga non ho capito anche qui come si come si ripara e non ho non ho niente non ho quel cosa blu ecco aspetto di fiori ma io non riesco proprio a capire aspetta dobbiamo tuttoria si energia ecco energia aspetta abbiamo diversi azioni consumano creare questioni di combattimenti puoi sempre recuperare cibo premi per aprire l'inventario anche dormire oh allora allora bisogna mangiare allora andiamo ok ok cosa li ho messi a 20 e non posso farli non posso mangiare le mele cioè c'era scritto che potevo prendere le mele ci sono bacche e capi ma dai però almeno le bacche cioè fammeli prendere cioè per farmi fare qualcosa non allora allora io dovrei mangiare qualcosa è la mia casa non l'avevo fatto eh questo eh no non posso farlo non posso fare nulla eh cosa uso ah forse forse se vado alla taverna mi dà da mangiare dormire ecco un'altra cosa dormire mi ripristina come dormo ah vediamo un attimo ecco ho sbagliato tecnologie tombe quantità del campo potrei dormire non capisco perché non c'è un letto eh ma dai eh ecco qua ma si era assurdo scusa ok mangiare ma oh va bene va bene per niente custode è qui per chissà quanto tempo sono mi sento povero povero me sembra qualcosa che può aiutarci vero sicuro motivo per cui sono qui Gerardo mi ha solo detto di seppellire i corti oh il teschio ah il teschio ah queste rivela qui soprattutto quel tipo la tomba bassa di sotterra il Gertrono fiume ok oh c'è un tipo e ci vuole un botto c'è un po' c'è un po' i certificati tanto non allora questo cos'è? parti metalliche lettere del fabbro questo possiamo spostarlo tanto non ci serve adesso allora costruiamo così meno possiamo tagliare i legni vedi però uno ce l'ho io di sotterra un tipo l'avevo dimenticato qui ma lo sapevo che ce l'avevo qua questo bel legnetto ragazzi grafica vecchia e retro gaming è un bel indie secondo me vale la pena giocarci è un po' 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 ho bisogno di creare pannello crea di un'era più palida idea quindi non ho la proprietà di questo boschetto è e e Grazie a tutti. Non ho informazioni, è un tronco, io non ho un tronco in mano. Non c'è un tronco, scusami. Devo capire come si fa a fare le cose. Sì, ma non c'ho nulla. Ah, la cote non c'ho. Posso solo scavare. Adesso non potrò fare più niente perché non ho abbastanza. Prendiamo un po' vita. Sì. Cucina. No, dai, sei serio? È un po' un casino però. Dove. Oto proprio per niente. No. 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 No, 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 no. c'è già dentro tutti ok si capisce un po poco ho finito allora dovrei fare la torba il banco da lavoro allora per forza e poi non si può fare tutto da qua eh ogni posto ha le sue quindi questo è la pietra ok bisogna andare a casa ok allora vediamo questo banco da lavoro vabbè già che ci siamo taglia pietre riserva di pietre cavalletto l'ho già fatto io baule io ho inventato ma non l'ho fatto scusa taglia legna allora creiamo un cavalletto sega circolare ah sega circolare facciamo sto pezzo in giro io riesco a capire cucina cucina ok facciamo facciamo dormire e poi ragazzi ci vediamo al prossimo video perché comunque anche se sono giochini a me piacciono un botto bravo 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 appena inquisita proprio vicino colina stregata prendi una birra dalla caverna la caverna sarà la caverna quella la si si sicuramente ecco l'inquisitore ci sono stati problemi no monsignore tranne che questo tipo ah sono qui al cimitero ragazzi di sicuro sarà un seguaccio lavoro come custode decisamente uno nuovo certo va bene è buon onore andiamo andiamo monsignore senza problemi ho detto pure via la fede è l'umanità stessa abbiamo bruciato migliaia di streghe ma l'allone harovno ah no oh no no sai 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 Interessante Fida di abitare Siamo amici adesso Scelta saggia Ok Quindi La via per capire che è stata la tecnologia qui dovrei avere la farina io vediamo se gliela porto lui che cosa succede ho ancora fatto a 100 farina e io cosa gli posso dare 10 farina vediamo non può accettare l'offerta allora ci sarà ci sarà qualcosa è un casino sto gioco ragazzi vediamo se lo prendo la birra dai sempre se ce la dà eh perché ecco la troviamo un 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 10 dopo qual'è che roba a lavoro sempre poiché che non si capisce dov'è la strada è terribile bisogna arrivare a 200 di quelli strumento palo si è rotto ciao inquisitorio tieni la birra tieni la birra vediamo se si può riparare la cote come la prendo la cote? è ancora un po' tutto tutto grezzo bisogna capire un po' il da farsi dormiamo e ci vediamo al prossimo video mi raccomando di iscrivervi su youtube sul canale mi piace commentate ditemi se vi piace questo gioco e soprattutto nelle live di twitch si ma come faccio poi? quello non ho capito ok cucina e forse bisogna mettere su qualcosa tipo una griglia e raga non ho capito non ho capito non ho capito il problema se spacco anche questo non ce l'ho più se spacco anche l'altro normalmente normalmente creare almeno le cose basi è un po' più semplice qui invece è tosto è tosto è tosto la cote la cote dove si crea dove si va vabbè dai da marco vi ho già salutati alla prossima Grave Yard Keeper ciao ragazzi alla prossima